Sofia Loren è cittadina onoraria di Napoli, lo ha deciso oggi su proposta del sindaco Luigi De Magistris, la giunta comunale nella sua prima riunione. La cerimonia pubblica si terrà sabato 9 luglio alle 10.30 nel cortile del Maschio Angioino. È una bellissima cosa, la prima giunta della nuova sindacatura si apre con una serie di delibere tra cui questa. Siamo felicissimi nell'ambito di questo evento straordinario di Dolce e Gabbana nella nostra città. Formalmente si consacra per sempre il legame formale tra Sofia Loren, già di fatto napoletana, e la città di Napoli. Sarà una bellissima manifestazione che abbiamo voluto fortemente popolare.